Ciao a tutti! Oggi prepareremo la zucchina lunga con patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono zucchina lunga sbucciata e tagliata a cubetti, patate tagliate a cubetti, cipolla, basilico, pomodorini tagliati in quarti, olio evo, acqua tiepida, dado vegetale bimbi, sale, pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 gradi, velocità 3. aggiungere la zucchina, le patate, l'acqua, ed azioniamo il bimbi per 20 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. aggiungere i pomodorini, aggiungere i pomodorini, il basilico, e proseguire la cottura per 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. la zucchina è pronta, trasferiamola in un piatto da portata e servire, polverizzando con parmigiano. zucchina lunga con patate, grazie e alla prossima ricetta. a 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